con le verdure chi c'è la ragazzi è la vecchia modena qua qua vai qua vai qua ma non è vecchia modena quella lì è verdure la le verdure la la abbiamo una pizza con le verdure da vendere a un buon prezzo si sa buon appetito a tutti grazie